Oh ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento con il mio corso completo di GarageBand e oggi parliamo della bestia nera della musica, della produzione e dell'Home Studio in Italia. Parliamo di Autotune. E soprattutto Apple, parliamo del perché hai inserito quella cagata di Autotune nel tuo programma? Vabbè, ve la do io una soluzione migliore. Ehi, questo videocorso è gratuito per tutti gli iscritti del canale e per questo sponsorizzato da me stesso. Se vuoi supportare la creazione di questo videocorso, ti prego di iscriverti al canale, lasciare un like e farmi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Ogni giorno, per tutto il mese di settembre, ci sarà un nuovo episodio qui sul canale alle 14. Però se vuoi sbloccare e scaricare tutti gli episodi assieme, puoi tranquillamente acquistare il corso nel link che ti lascio in descrizione per soli 9,99€. Inoltre, sempre in descrizione, ti lascio il link al gruppo Telegram dove potete parlare del corso, scambiarvi idee, farmi sapere i vostri feedback, segnalarmi i problemi, tutto quello che volete. C'è un canale dedicato alle offerte audio dove segnalo gli sconti più importanti. Abbiamo avuto microfoni a 16€, schede audio a 30€ e così via. Un elenco della mia attrezzatura consigliata per il vostro home studio, sempre roba molto economica che potrete trovare sempre in descrizione. Inoltre, per ogni lezione, vi lascerò in descrizione il download di tutti i plugin, file audio, file midi, risorse utili per il buon procedimento del corso. Fine del messaggio promozionale, vi auguro buona visione! Ok ragazzi, leviamoci dalle scatole l'elefante nella stanza, l'ho detto in passato, l'ho sempre detto, ve lo ripeto adesso. Secondo me la funzione autotune implementata in GarageBand fa veramente schifo. Il 90% delle volte sbaglierà, si aggancerà a scale che voi non gli avete chiesto, ogni tanto decide di disattivarsi da sola, insomma è inaffidabile. Vi mostro comunque come si attiva, questa qui è la nostra traccia vocale, un loop di quelli che ho preso. Ok, se volessimo intonarlo, la ragazza che l'ha cantato era intonatissima, il coro che l'ha cantato era intonatissimo. Doppio clic sulla sezione audio, sezione traccia, correzione tono, potete settarlo a quanto volete o spararlo al 100%. Era già intonato di suo, ci ho fatto poco, ma vedrete che... Adesso ho impostato la mia armatura, la mia chiave in GarageBand su La minore e se attivo limita la tonalità. Andrà a imputtanare tutto quanto, vabbè, ho estremizzato. Però ricordatevi che se state cantando una canzone in Re e per sbaglio vi siete dimenticati di lasciare qui la tonalità in Do maggiore, che è quella che esce di default con ogni progetto di GarageBand, Se attivate questa opzione vi cannerà tutto quanto. Chiaramente disattivandola dovrete fidarvi di quello che vorrà fare GarageBand. Quindi se GarageBand decide che voi avete cantato in un'altra scala, ci sarà ben poco che potrete fare. Per ovviare a questo problema ci viene sempre in aiuto la suite di plug-in gratuiti della Melda che vi ho fatto scaricare e che trovate nella descrizione della puntata su come si installano i plug-in. Vi basterà... Allora intanto eliminiamo il loro pitch correction. Vi basterà aggiungere un nuovo plug-in, andare su Audio Units, Melda Production. E selezionare M Auto Pitch. Ok? Questo qui sarà un autotune bello, fatto e finito. Gli potete dare la vostra scala in cui state cantando e potrete sistemare i vostri parametri come se stesse utilizzando un vero autotune. Non perdo tempo a spiegare come si usa un autotune perché tutta la gente che finirà su questo video probabilmente sa come si usa e cercherà un'alternativa gratuita. Vi dico soltanto che portando la speed al minimo e tutti i parametri al massimo otterrete il classico effetto alla T-Pain, quello che cercano molti trapper, molti rapper. Se invece volete ottenere un cantato bello, pulito, ho fatto un video in precedenza in cui spiego come si usano i parametri dell'autotune, quali suono e come ottenere un cantato pulito. Però ribatto quella che è la mia opinione. Se siete dei cantanti e la trasparenza del cantato è quello che vi interessa, molto meglio registrare una take 4, 5, 6 volte, anche come abbiamo visto all'inizio di questo corso, che affidarsi all'autotune. Ok? È un consiglio spassionato, non è un giudizio di valore, per carità. Comunque questo era tutto quello che dovevate sapere sull'autotune in GarageBand e sulla sua alternativa gratuita, alternativa migliore tra l'altro. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video e del corso finora. E noi ci vediamo domani per un nuovo episodio. Ciao!